Stiamo guardando il cantiere dei lavori della metropolitana. Guarda che partiuso, guarda che partiuso, guarda che buco. Va bene, siamo abituati a noi. Tutto a posto. Va tutto a posto. Tutto a posto. E noi siamo qui che aspettiamo, perché vedete il partiuso, guarda il partiuso. Allora, qui scoperchiano tutto. Va bene, va bene, siamo abituati. Va tutto a posto. Se devo essere proprio sincero, non capisco il motivo di questo semaforo, a dirvela tutta, però. Ma ti lo dici a me? È per regolare il traccio con il partiuso. Non partiuso, io non partiuso bene l'acqua. Sì, tutto in partiuso. Va tutto bene. Siamo abituati così. Ne vedo un po', non è che mi sembra proprio pulito, pulito. Tutto bene. Sempre tutto bene. Come si chiama? PNRR? Quale è già il PNRR? Va bene, in partiuso. Ecco, il partiuso, ho letto che c'è proprio un progetto, borgo nuovo di sepa. Va tutto bene. Insomma, siamo abituati oramai, siamo abituati così. Va tutto bene, tutto a posto. Prendiamo l'immondizia e la campuma è in tal partiuso. Bella idea, bravo Gianni, bella idea. Come sta? Come è lei? Pare. Quanto è in tal partiuso, in tal partiuso ragazzi? Tu che ne eschi è? Va tutto bene? Tut bene, tut bene. Sì, sì, siamo abituati così. Tut bene, quando c'è fiocca? Perché la fiocca è acquata. Acquata? Acquata tu. Acquata tu. Come si può definire l'ospedale? Ampartius. Ma va bene parei, siamo abituati noi. Ampartius. Ampartius. Sì, sì, ma va bene. E tu, ma la metro? E tu, ma la metro, la fermata. La metro? Ma proprio qui? Pescaletto. E tu, ma tanto, l'umaten. Arriva, eh? Vado a imparare. Sa tessi con me mi girano, 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 rotti strarotti resistono. каждi trefatori... Pescaletto. Pescaletto. Più? Grazie a tutti